benvenuti sul mio canale l'ona dolci riflessi oggi vi propongo un nuovo tutorial un giacchino con la tecnica top down il punto scelto è un punto fantasia forato e poi l'ho realizzata a maniche corte ma potete anche prolungare e realizzarlo a maniche lunghe il tutorial ci saranno tutte le indicazioni per realizzarlo in tutte le taglie allora passiamo all'occorrente e poi al tutorial andiamo a vedere da vicino il giacchino allora questo giacchino l'ho proprio studiato per una circonferenza seno abbondante come taglia e una m una l perché una m per quanto riguarda il sopra la mia circonferenza corrisponde a una l però vi do tutte le indicazioni per realizzarlo anche in una misura unica una 42 44 insomma 46 potete decidere insomma la vostra ampiezza del vostro giacchetto allora questo è facile perché io proprio nella parte davanti come vedete ho preso tre centimetri e tre centimetri proprio ho voluto abbondare infatti se vedete nella foto è perfetto mi resta in questo modo qui per cui non mi rimane soprapposto però voi potete decidere di realizzarlo soprapposto se non avete diciamo questa circonferenza generosa oppure potete anche togliere i tre centimetri che io ho messo aggiunto un pezzettino di modulino in più insomma ma poi nel video insomma vi spiego per quanto riguarda l'ampiezza delle maniche e mi raccomando non non arrivate alla vostra circonferenza seno perché arrivare alla circonferenza se no vi trovate delle maniche gigantesche però io leggermente abbondato diciamo che a me 20 21 ho leggermente quasi arrivata alla mia circonferenza dello scalfo perché perché ovviamente metto una maglia sotto e non lo volevo proprio strattissimo lo volevo un po comodo ecco però comunque ho aggiunto sui quattro centimetri e mezzo sotto per sempre per la circonferenza seno però facendo questo i quattro centimetri e mezzo anche dalla parte opposta anche dalla parte opposta più i sei centimetri davanti insomma mi sono presa diciamo per averlo abbastanza aderente ma nello stesso tempo diciamo nella parte seno che sia non troppo stretto ho ragionato in questo modo per questo giacchino però sono andata a toglierli subito immediatamente quando sono andata a lavorare poi la manichina non ho lasciato ovviamente subito l'aumento sotto allo scalfo perché in quel caso in quel caso avrei avuto una maglia più grande del solito e allora non volevo questo che è stato tolto immediatamente con delle diminuzioni subito in maniera che la mia manichina resta della mia misura perfetta che erano i 20 barra 21 cm ma mi sono presa mi sono presa diciamo una parte sotto per il seno perché avendo un piccolo triangolino che diciamo immaginario che si può formare sotto in questo caso vado a prendere una circonferenza di più del seno ma non della manica di solito con l'uncinetto non è molto facile realizzarlo con i ferri sì però in questo caso insomma ci sono riuscita ma anche il punto si è prestato allora questo è tutto un ragionamento ma se non avete questi insomma questa circonferenza generosa vi consiglio sempre due minimo due maglie sotto allo scalfo non fate che chiudete e arrivate proprio se la vostra circonferenza insomma arriva quanto lo scalfo mettetele sempre due maglie perché comunque scende veramente meglio cade meglio il giacchino allora lo scollo è quadrato sono sui 55 centimetri ora vi dico con il foglio tutti i calcoli che ho fatto allora adattare al punto alla nostra misura le diminuzioni agli aumenti allora resta a volte un pochino più difficile però facendo alcune attenzioni o accortezze possiamo risolvere allora io ho fatto un campione e per arrivare ai 10 10 centimetri mi occorrono 16 16 catenelle per cui facendo un campione voi fate un campione e su questo non potete sbagliare assolutamente l'avvio l'avvio io perché ho deciso la mia circonferenza e 100 quella più generosa per cui mi dovevo comunque adattare a questa circonferenza ma neanche dovevo realizzare delle maniche gigantesche su questo quando andiamo a lavorare uno sprone che è quadrato ma non ha delle diminuzioni come a volte faccio meno diminuzioni per cui riesco a gestire meglio la circonferenza ma quando abbiamo proprio il classico strone che lo mettiamo appena finito che è quadrato anche rettangolare ma si apre completamente li abbiamo dobbiamo stare attenta a quanto riguarda lo scarfo perché rischiamo di avere una manica gigantesca per riuscire avere poi una circonferenza che ci è più comoda allora gira un attimo il foglio i calcoli ve li ho fatti tutti io così non avete problemi allora voi fate il vostro campione sicuramente l'avvio probabilmente sarà uguale per tutti insomma ho fatto sui 55 centimetri per lo scollo però insomma voi vedete poi potete decidere se fare questa aggiunta di tre centimetri centimetri se lo volete poi chiudere nel mio caso non lo chiudo perché mi occorrono tutte per la circonferenza allora il mio calcolo per quanto riguarda un punto che comunque un punto fantasia bisogna un attimino ragionare anche sugli aumenti il calcolo è stato che avendo 97 97 sono le catenelle io lo suddivise a 21 che comunque molto un multiplo di 9 però avevo la ma una maglia d'inizio e una fine per cui insomma bisogna fare un po un calcolo diciamo anche sugli aumenti per cui è ovvio dice sono di 9 come ma insomma me ne trovo 21 perché abbiamo una maglia e un'altra maglia di inizio e ovviamente abbiamo poi una maglia laterale d'aumento è stato un ragionamento vi devo dire abbastanza lungo ma alla fine fidatevi su questa cosa e allora noi abbiamo che deve essere disparo questa parte noi abbiamo qui ovviamente una maglia in più perché partendo da questo lato noi ci troviamo a lavorare 10 10 maglie anche se deve essere divisibile per 9 però abbiamo un inizio e una fine poi abbiamo l'aumento per cui dobbiamo un attimino ragionare per cui ho realizzato i tre centimetri che è davanti i tre centimetri per arrivare a 15 catenelle del davanti per cui 15 e 15 ma non 10 perché sarebbe stato troppo perfetto e poi dovete poi dividere il disegno perché poi non vi arriva dovete aggiungere caso è una catenella in più una catenella in più per farlo più più piccolino davanti allora lavorando le 15 catenelle abbiamo poi l'aumento che è una maglia 21 un aumento 21 un aumento 21 un aumento e così io sono arrivata alla circonferenza con 97 catenelle io lavorando 97 catenelle sono riuscita a avere diciamo una giusta misura per poter lavorare il nostro sprone in quel caso quando arriviamo alla misura mi raccomando dello scarto che il mio è di 20 barra 21 voi calcolate il vostro mi sono leggermente più quasi arrivata a 20 21 anche se non dovevo perché dovevo togliere la parte sotto nello scalfo degli aumenti ma l'ho giunto diciamo nella circonferenza e questa parte l'ho eliminata subito con le maniche insomma è stato fatto un ragionamento un po a lunghino però alla fine del giacchino è venuto bene e comunque si modella completamente insomma sul nostro sul nostro sulla nostra fisicità allora adesso andiamo a vedere il filato che ho scelto con i materiali che occorrono e poi passiamo immediatamente al tutorial non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere poi i tutti i tutorial che stanno per arrivare per l'estate il filato scelto per questo progetto è l'ecologico corteccia melange è veramente un filato bellissimo e anche delle piccole sfumature allora è un filato ecologico al 90 per cento agrilico riciclato il 10 per cento altre fibre sono 100 grammi a gomitolo 310 metri circa consigliano inferi dal 4 4 e mezzo e l'uncinetto da 33 mezzo uncinetto 4 allora ho avviato 97 catenelle 97 catenelle deve essere il punto divisibile per 9 il punto è proprio quanto riguarda gli aumenti insomma quella è un'altra cosa infatti li ho messi a parte queste quattro maglie per il motivo del del nostro punto fantasia per cui questi sono gli aumenti non è una maglia l'aumento ma il punto di riferimento dove ci saranno poi gli aumenti per cui andiamo a lavorare 21 21 21 e poi io ho deciso invece di 10 fare 15 perché perché voglio prendere un pochino qui di ampiezza proprio sulla circonferenza seno allora questo potete decidere di togliere insomma le maglie ma ovviamente dovete fare il calcolo casomai ne fate 11 perché visto che un multiplo di 9 ne fate 12 insomma in base poi alla al vostro gusto quanto vi piace aperto davanti se lo volete che si chiude oppure rimane insomma dritto questo poi dipende dal modello che desiderate allora andiamo a vedere il punto iniziamo subito diciamo con le 15 maglie davanti io vado a fare una catenella la seconda e la terza ovviamente non entro nella terza nella quarta ma entro ovviamente nella quinta perché perché ci serve una catenella di base perché conta come punto vado a realizzare una maglia alta in quella successiva queste due maglie sono le maglie del bordo per cui non è una maglia che conta diciamo il punto sono le maglie per un bordino adesso vado a realizzare una maglia alta contando 12 entro nella terza realizzo una maglia alta 4 catenella 4 catenelle e una maglia alta sullo stesso punto adesso conto 12 entro nella terza vado a realizzare 5 maglie alte ovviamente su ogni catenella la prima la seconda la terza la quarta e la quinta maglia adesso andiamo a ripetere il punto ma qui andiamo subito a fare gli aumenti per cui se volete mettere marca punti o poi queste sono 15 maglie e ho contato dove c'è l'aumento che è la sedicesima l'aumento il punto di riferimento dove ci saranno gli aumenti e come potete mettere il marca punti ma in questo caso non serve 123 prendo l'uncinetto e il filo vado a lavorare una maglia alta e le quattro catenelle perché quel punto come così ripete no abbiamo già eseguito adesso qui c'è una catenella e questo è il punto in cui inizieranno gli aumenti allora adesso vado a realizzare quattro catenelle salto una catenella vado in quella successiva ripeto di nuovo il punto per cui adesso stiamo facendo la parte comunque delle spalle per cui quattro catenelle rientro sullo stesso punto adesso vi faccio vedere vedete questa è la parte davanti e qui iniziamo la riga la riga delle spalle in questo caso abbiamo realizzato questa parte e adesso iniziamo le 21 maglie ok allora adesso ripetiamo il punto abbiamo realizzato il punto chiamiamolo punto a v con quattro catenelle di separazione vado a puntare 1 2 e 3 entro nella terza e vado a realizzare sempre cinque maglie alte per cui semplicissimo l'unica cosa che andiamo a ripetere perché vi faccio vedere fino ovviamente le quattro le quattro diciamo righe o giri lavorati proprio perché il punto poi va sfalzato in quel caso ma sono due diciamo le sequenze da memorizzare per cui è semplicissimo vado comunque a lavorare le cinque maglie e di nuovo 123 ripeto il punto a poco le quattro catenelle di separazione e rientro sullo stesso punto in questo caso per arrivare alla ventunesima maglia come vedete questo è l'angolo questa parte che l'angolo abbiamo fatto il nostro punto delle maglie alte punto a v maglie utilizziamo ancora adesso l'angolo come facciamo 123 entro nella terza e vado a lavorare 1 2 3 e 4 e questo è il nostro inizio il nostro angolo come facciamo 4 catenelle abbiamo la catenella sottostante la salto vado in quella successiva e di nuovo lavoro il punto a v con le quattro catenelle abbiamo fatto di nuovo l'angolo infatti se andate a contare la linea della spalla ora vi dico a concludo il punto che questa è l'inizio della nuova di una nuova linea c'è del dietro questa è la spalla se andiamo a contare da qui fino a qui vi accorgete che sono 21 21 maglie adesso andiamo a lavorare ancora 21 maglie la sequenza è sempre la stessa 1 2 e 3 conto entro nella terza e vado a lavorare le maglie alte per cui la sequenza è sempre la stessa lavoro sempre le 21 maglie sono arrivata di nuovo alle 21 maglie ho terminato la parte dietro faccio le 4 catenelle abbiamo il punto sottostante lo salto e vado in quello successivo e di nuovo vado a fare la riga delle spalle e questo è di nuovo un angolo che abbiamo adesso proseguo sono andata a concludere poi con due maglie alte per cui il punto av punto av e qui c'è l'angolo come ovviamente l'inizio cui abbiamo già bene il quadrato adesso c'è il filo però comunque eccolo qui adesso proseguiamo vado a lavorare ovviamente le due maglie alte d'inizio come l'abbiamo fatte all'inizio ma anche alla fine perché facciamo un piccolo bordino vado a lavorare 3 catenelle volte il lavoro il lavoro il punto successivo per cui queste qua sono le due le due maglie andiamo adesso a lavorare il punto un punto non dico diverso ma dobbiamo andare a lavorare una sequenza diversa coi 1 2 3 4 e 5 e vado a lavorare punto su punto le cinque maglie alte per cui dove ci abbiamo il punto sottostante lavoriamo 5 catenelle non lavoriamo il punto av ma ovviamente le maglie alte 1 2 3 4 e 5 vedete io la maglia alta del punto av 1 la lavoro di nuovo 5 1 2 3 4 e 5 adesso ci troviamo qui ovviamente nell'angolo degli aumenti noi abbiamo qui il punto av e qui abbiamo le nostre quattro catenelle vado a lavorare proprio qui al centro ma non dove c'è il punto av 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte 1 2 3 una catenella e di nuovo 1 2 e 3 e questi sono i nostri aumenti aumenti ok adesso andiamo a lavorare di nuovo il punto dove c'è il punto av cosa facciamo 5 catenelle 4 e 5 vado a lavorare le cinque maglie alte ma non la maglia avva per cui questa no ma in quella successiva lavoriamo cinque maglie alte ecco qui e vado a ripetere la sequenza sempre delle cinque catenelle perché ora c'è il punto av e quando c'è l'aumento quando c'è l'aumento qui all'angolo ovviamente il punto av faccio le cinque catenelle qui 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte e 5 catenelle e proseguo per tutto il giro adesso che ho terminato di nuovo il secondo giro mi alzo di 1 2 e 3 giro il lavoro e vado a lavorare la seconda maglia che è semplicemente per il nostro bordo e ho concluso nel senso il bordino adesso andiamo a verifica a vedere andiamo a lavorare il punto il punto è sempre lo stesso semplicemente che viene spazzato tra in questo caso dobbiamo fare una maglia alta allungata come facciamo prendo il filo e lavoro una maglia alta entro sempre dove ci sono le catenelle seconda maglia alta prendo il filo e vado proprio nel punto av ci sono le catenelle tiro su il filo e lavoro una maglia alta lo faccio del meglio dentro il lavoro una maglia alta questa è una maglia alta allungata lavoro adesso sempre dove ci sono le catenelle altre due maglie alte e abbiamo diciamo fatto questa questa fase adesso non dobbiamo riprendere di nuovo come la prima il primo giro il punto av lo vado a realizzare alla terza maglia alta prendo il filo entro nella maglia 4 catenelle e sempre nello stesso punto realizza una maglia alta la stessa sequenza adesso mi ritrovo di nuovo con le catenelle prendo il filo entro dove ci sono le catenelle lavoro due maglie alte la prima e la seconda prendo il filo entro dove c'è il punto av realizza una maglia alta allungata e vado a chiudere entro nel punto diciamo punto successivo ma direi dove ci sono le catenelle vado a concludere questa sequenza con due maglie alte adesso ci troviamo qui dove abbiamo fatto gli aumenti dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto nella parte sottostante per cui come vado ad eseguirlo prendo il filo entro proprio dove c'è che abbiamo realizzato la catenella realizzo il punto av con 1 2 3 e 4 entro di nuovo dove c'è la catenella abbiamo fatto il nostro punto av 4 catenelle di separazione come abbiamo fatto nel primo giro prendo il filo e di nuovo dove c'è la catenella vado a lavorare una maglia alta 4 catenelle e una maglia alta sullo stesso punto per cui è facilissimo la sequenza è la stessa andiamo a realizzare dove c'è la catenella che adesso proseguo sempre con la stessa sequenza perché qui abbiamo le catenelle non faccio altro che andare a lavorare di nuovo due maglie alte la prima la seconda una maglia alta allungata entrando dentro al punto av questo caso e vado a lavorare le due maglie alte in questo modo e poi di lavoro il punto av nella terza maglia senza fare catenelle mi raccomando proseguo fino al termine di tutto il giro adesso che ho terminato tutta la sequenza vado a realizzare la il quarto giro allora ovviamente adesso che andiamo a lavorare abbiamo sempre le due maglie le due maglie inizio così non ci confondiamo e l'abbiamo realizzata per cui andiamo a realizzare la sequenza è del secondo giro però ovviamente sfalzata per cui dove abbiamo le maglie alte facciamo le maglie alte è semplicemente sfalzata ma è la stessa sequenza perché cinque maglie alte senza lavorare le maglie a v e mi raccomando non lavorate le maglie più contate le cinque maglie alte poi dobbiamo realizzare le cinque catenelle 1 2 3 4 e 5 vado a lavorare le cinque maglie alte sempre non lavorate la maglia appunto non credo di averlo ripetuto anche troppe volte che ho paura che poi il punto vi viene non mi viene bene allora adesso dobbiamo rifare di nuovo gli aumenti siamo proprio all'angolo di nuovo per cui quello che abbiamo fatto in questa riga la facciamo qui andiamo a realizzare sempre nella seconda riga 1 2 3 4 e 5 catenelle e vado a lavorare qui sul punto mentre all'angolo come abbiamo fatto qui tre maglie alte una catenella e tre maglie alte per cui adesso la sequenza è sempre la stessa poi ripetiamo dalla prima dalla prima adesso vi faccio un attimino vedere la sequenza dell'angolo ma insomma già l'avete memorizzata perché è facilissimo ecco qui e proseguo di nuovo qui abbiamo le 5 catenelle allora quando andiamo a lavorare di nuovo qui l'angolo è ovvio che noi facciamo le due maglie il punto av ovviamente sarà sarà qui nella terza maglia per cui quello che abbiamo fatto poi nella sequenza sottostante insomma che sarebbe la terza vedere una prima seconda e la terza ma dobbiamo poi ripetere qui che sarebbe l'inizio per cui sono due righe da imparare non è altro il punto sono due righe semplicemente sfalzato e poi dovete rifare di nuovo la maglia alta allungata semplicemente per cui andiamo a ripetere la sequenza la prima la seconda la terza e la quarta questa è la quarta ripetiamo di nuovo dalla prima la prima e l'inizio due maglie alte due maglie altre lavoriamo appunto a po qui alla terza e poi due maglie maglie allungate due maglie ripetiamo l'angolo che è la stessa sequenza che poi abbiamo fatto anche qui per cui insomma si ripete sempre farvelo vedere continuamente vi annoio e basta allora questo è questo è lo sprone quadrato ovviamente io come vi ho detto già all'inizio ho preso i tre centimetri tre centimetri proprio di per prendermi ancora più circonferenza davanti perché lo voglio aderente ma avendo un seno diciamo fuori misura in quel caso mi aiuta tantissimo prendere sei centimetri in più voi potete sempre variare se farlo in questo modo vedete togliendo una parte facendo sempre le due maglie e due maglie alte per non vi sbagliate oppure perché vi piace che lo volete abbottonare mentre dei bottoncini insomma potete realizzarlo come volete avete tante opzioni allora ho terminato lo sprone come vedete è proprio un rettangolo levando il pezzo ovviamente dello scollo quando si fa questa lavorazione bisogna fare attenzione se abbiamo una circonferenza seno abbastanza abbondante come la mia ecco in questo caso come vedete la costruzione degli aumenti rende proprio un quadrato quando lo andiamo a pre quando lo andiamo aprire invece di solito quando faccio degli aumenti ovviamente qui è come se fosse un trapezio più sceso perché mi aiuta avere meno meno una larghezza per quanto riguarda lo scalfo e posso abbondare per la circonferenza seno questa è una domanda che mi avete sempre fatto quando c'è questo tipo di lavorazione dobbiamo fare un pochino più di attenzione se abbiamo una circonferenza che comunque ha una misura diversa dalla parte superiore allora avendo la mia circonferenza che è 100 io devo andare a lavorare una circonferenza come vedete qui sono arrivata a 45 centimetri ovviamente non mi basta assolutamente 45 centimetri però se vado a misurare lo lo scalfo ecco qui abbiamo una misura esattamente di 20 centimetri io posso arrivare fino a 21 essendo un giacchino che insomma mi va bene anche 21 centimetri avendo una taglia ml mi va bene però io già sono arrivata alla diciamo la mia misura dello scalfo allora io dovrei andare a chiudere completamente con una chiudere a lasciare anche due maglie perché due maglie sotto vanno sempre lasciate non va chiuso così è facile ovviamente quando ci abbiamo una lavorazione che abbiamo un disegno la cosa più facile è andare a chiudere però chi ha un seno che diciamo è fuori misura oppure la circonferenza è al di sopra della misura superiore diciamo una m sopra e una l sotto come facciamo ok dice allora andiamo aumentare sotto le nostre sotto allo scalfo andiamo aumentare delle catenelle ci sta va benissimo vado aumentare 5 centimetri 5 centimetri e così sono arrivata alla mia circonferenza e poi facendo ovviamente i 3 centimetri per lato di aumento perché in questo modo che abbiamo aumentato la parte superiore diciamo qui della chiusura e poi possiamo andare a fare un bordo abbiamo ancora più agio in questo modo proprio per la nostra circonferenza seno però andando aumentando io vado a aumentare anche lo scalfo ovviamente poi mi trovo 5 centimetri di più e abbiamo una manica esagerata e questo è sempre la domanda che voi mi fate dice poi alla fine mi trovano una maglia esagerata cosa facciamo noi andiamo ad aumentarli ma appena andiamo avviare la manica noi dobbiamo come deve risultare come uno spicchio sotto la manica dobbiamo andare a fare subito le diminuzioni immediate e dobbiamo togliere quelle maglie che abbiamo messo per forza anche se poi alla circonferenza ce l'abbiamo ma ne andiamo a prendere per il seno e dobbiamo cercare di non prenderle per lo scalfo del braccio questa è l'unica diciamo una delle tante soluzioni che si possono prendere per cui abbiamo la circonferenza se noi ce la andiamo a prendere qui sotto e abbiamo un agio anche per quanto riguarda la chiusura per cui noi possiamo questo può essere anche alla fine prendere ancora di più un margine per il davanti e poi fare dei bordi se invece non ci occorre lo lasceremo in questo modo per una taglia normale diciamo che può essere una m sopra una m sotto noi abbiamo 45 andiamo a mettere pochissime maglie sotto ma le andiamo poi a togliere perché poi ci ritroviamo con un c'è con uno scalfo gigantesco per cui il problema che ha un seno diciamo di una misura diversa dalla parte superiore ci andiamo a trovare una manica gigantesca e questo non lo dobbiamo permettere allora adesso andiamo aumentare cosa andiamo aumentare abbiamo un disegno è questo ovviamente come facciamo questo disegno ha parecchie diciamo maglie da aggiungere per arrivare al disegno ma non ci fa comodo perché dobbiamo aggiungere 5 cm facendo un calcolo per proseguire il nostro disegno che qui abbiamo le tre le tre maglie vado aggiungere tre maglie comunque conclude mi manca un piccolo pezzettino sia dell'avvio da questa parte sia dall'avvio dell'altro per cui vado ad aggiungere nove maglie che corrispondono calcolando due maglie per parte due maglie per parte a 4 cm e mezzo per cui aggiungerò due maglie le cinque maglie centrali e due maglie per cui vado a 5 cm 5 cm per cui avendo i 5 cm dello scalfo abbiamo preso circonferenza seno più la parte centrale ma poi ci dobbiamo ricordare che le dobbiamo andare a togliere assolutamente perché non ci interessano per quanto riguarda la manica allora adesso andiamo a chiudere ovviamente il nostro il nostro sprone adesso andiamo a chiudere lo scalfo allora con la cosa che possiamo fare in due modi io vi ho fatto vedere di 9 maglie ma possiamo anche al limite farlo solo di cinque maglie come possiamo fare se andiamo a fare di 9 io vado a lavorare due maglie qui al centro 1 e 2 e vado a lavorare la terza dentro proprio la terza se vogliamo oppure vado a realizzare 1 2 3 4 e 5 per cui quando poi andiamo a lavorare noi abbiamo preso circonferenza queste le andiamo a lavorare normalmente oppure possiamo sempre togliere e lavorarne di meno allora il disegno quando ne abbiamo di più poi man mano e noi abbiamo preso comunque la circonferenza e ce la siamo presa prendendo con il punto diciamo il punto forato e con questo modo qui abbiamo 1 2 3 4 5 e 6 possiamo aggiungere 6 catenelle volendo per cui vado anche a lavorare qui al centro una maglia come se fosse questo punto a 1 vado a lavorare 1 2 3 e 4 possiamo fare anche in questo modo per cui possiamo variare e vado a lavorare proprio al centro qui della parte opposta vado a lavorare una maglia alta come se fosse l'altra metà del punto a boom eccolo qui possiamo fare anche in questo modo è una possibilità poi vado a lavorare il punto tranquillamente al punto successivo che dobbiamo fare il nostro schema per cui sono due maglie e poi vado a fare questa maglia allungata al centro e lavoro le due maglie in questo modo abbiamo anche fatto un aumento un aumento ma sono di uno due tre quattro sono sei ma se ne vogliamo due di più possiamo farle non c'è nessun problema che poi nella lavorazione ovviamente riusciamo ad includerle perché comunque abbiamo preso abbiamo preso la circonferenza oppure possiamo fare in questo modo questo poi dipende da quanto a voi vi serve di circonferenza tra possiamo farne anche 9 possiamo farne cinque questo poi dipende perché ovunque abbiamo un disegno e lo dobbiamo adattare o se lo adattate dalla parte sottostante diciamo dove invece a posto di di questo c'è quello diciamo l'angolo con il foro lì possiamo aggiungere più maglie e poi con il disegno insomma ce lo possiamo adattare come vogliamo in questo modo è come se fosse il nostro punto av che poi andiamo poi a chiudere in questo modo quando andiamo andiamo a lavorare per cui noi sotto ci siamo presi il nostro spazio e sopra invece andiamo a chiudere questa è sempre una possibilità adesso io mi porto avanti fino alla lunghezza dei fianchi sempre con la stessa lavorazione però la stessa cosa anche ovviamente dal dallo scalfo ovviamente della parte sinistra o parte destra parte destra allora adesso vi faccio vedere quanto mi sono allungata prendiamo le misure 56 cm 56 allora adesso che vado a fare il bordino sotto poi già ho iniziato la manichina vi faccio vedere come si realizza vado a realizzare il bordino con una maglia con una mezza maglia alta in questo modo tiro giù alla per realizzare il bordino tutto intorno sia la parte dello scollo il davanti e il sotto io vado a realizzare una mezza maglia alta però come vedete qui ci troviamo con quattro catenelle questo punto con quattro catenelle separazioni linee farò soltanto 3 perché dopo viene troppo lento troppo lento sotto se preferite che fa tipo come un archetto ne fate ovviamente quattro io ho deciso di realizzarne tre cuba da lavorare sul punto e poi ne realizzo 3 anche se le catenelle ne sono 4 e 3 poi lavoro il punto e poi vado a lavorare punto su punto quando arriva all'angolo per girare diciamo poi la lavorazione vado a lavorare una catenella cui realizzo l'angolo qui adesso ultimo punto poi andiamo a nascondere anche la codina in questo caso catenella e lavoro lo stesso punto in questo modo realizzato ecco come un angolo e vado a lavorare per ogni maglia distesa vado a lavorare due maglie mi raccomando il cui andiamo non fate delle maglie in più perché poi dopo alla fine vi trovate un'onda per cui dobbiamo cercare di non tirare il filo e di renderlo più dritto possibile per cui due maglie per ogni maglia distesa non abbiamo problemi in questo modo e poi sullo scollo vado a lavorare punto su punto e questo è il nostro bordino proseguo per lavorare tutto il giro poi potete anche realizzare dopo un'altra un altro giro se vi piace di più a questo poi dipende lo indossate e vedete come vista meglio allora ho terminato tutto il bordino come vedete sia dalla parte bassa e sia dalla parte alta ora dobbiamo fare la manichina la manichina la potete fare fino al gomito anche lunga io ho preferito farla corta perché insomma poi metto sotto una camicia o una maglia preferisco che sia corta in questo periodo ovviamente allora per realizzare la nostra manica noi abbiamo fatto qui almeno nel mio caso nella mia taglia 4 centimetri e mezzo in più però sono arrivata fino diciamo ai 21 centimetri non mi sono fermata prima per comunque dovevo prendere la larghezza come vi ho spiegato prima per cui io i 21 cm ci sono ma questi 4 centimetri e mezzo li devo togliere assolutamente perché non mi occorrono dalla parte diciamo del della manica allora come facciamo vado prendo il filo e mi aggancio proprio da l'ultima maglia che è questa ovviamente a me non occorre più diciamo questa larghezza realizzo una catenella blocco il filo realizzo altri 2 catenelle con questa è la maglia alta realizzata la maglia alta vogliamo a bloccare il filo dietro dopo vado alla parte opposta vedete qui alla parte opposta c'è proprio il modulino se non l'avete quello forato avere delle quello delle cinque maglie insomma vede un po voi in base alla misura che avete fatto vado a chiudere proprio chiudo tanto il triangolino sono qui sono qui e può stare anche sotto diciamo sotto allo scalfo fatto questo io ho tolto immediatamente le maglie in più che non mi interessano qualora voi avete fatto più maglie perché la vostra necessità era più maglie andate comunque a chiudere un modulo chiudete l'altro oppure fate due diminuzioni potete gestare le diminuzioni man mano che si lavora infatti adesso in questo caso io ho i miei 21 cm se mi occorre di stringere la voglio un pochino più aderente che molto elastico il punto man mano vado anche a fare delle diminuzioni sotto le realizzo tranquillamente tanto anche se il modulino diventa più piccolo di tre maglie e poi man mano chiudo ancora ne chiude un altro pezzettino non succede nulla questo insomma quando abbiamo un punto fantasia possiamo giocare su questa cosa adesso qui sarebbe il caso di mettere un marca punti e metto proprio in questo punto un marca punti maniera che so qual è poi dove dobbiamo andare a congiungere il giro lavorato prendo l'uncinetto e vado a lavorare come la sequenza allora in questo caso qui dovrebbero essere le tre maglie e dalla parte opposta devono essere le tre maglie questo è un modulo per cui io vado a lavorare mezzo modulo qui dobbiamo ecco qui dobbiamo fare le maglie alte e qui dobbiamo fare la v per cui faccio la v nella maglia per cui lavoro una maglia alta e mi vado a collocare nel punto successivo in questo modo io ho realizzato come la mezza v che poi la vado a fare dall'altra parte in questo caso abbiamo chiuso poi potete sempre fare anche in altri in altri modi non c'è proprio una regola ben precisa però in questo modo vado a terminare tutto il giro quando ritorno il ritorno vado a lavorare abbiamo le tre maglie faccio una maglia alta e la vado a collocare sul il punto sul marca punto in questo caso vado a lavorare tutto intorno insomma sempre chiudendo con una maglia bassissima e abbiamo la nostra manica con la stessa misura non deve farvi vedere i stessi passaggi perché tanto il punto è sempre lo stesso e poi casomai se proprio preferite come ho fatto io nella manica vi faccio vedere meglio questa qui è la manica ho fatto poi un giro di maglia bassa sempre facendo attenzione dove ci sono gli archetti ho fatto tre maglie al posto di quattro ovviamente è proprio per rifinire la manichina questo vedete da largo qui abbiamo preso la nostra misura che ci occorreva io l'ho portata subito nella misura giusta bisogna farlo subito perché poi ci rimane la ma la manica come un palloncino per cui o andiamo subito a stringere un attimino come un piccolo triangolino sotto perché non abbiamo tante di maglia andiamo man mano a chiudere come un piccolo triangolino nella parte sottostante fatto questo non abbiamo problemi perché abbiamo riportato la manica nella nostra misura anche se poi ovviamente noi abbiamo fatto un diciamo che prendendo la misura dello scalfo noi siamo andate a misura giusta non abbiamo diciamo non ci siamo fermate prima proprio per questo caso per prendere sempre più centimetri poi ci sono tante tante varianti allora adesso proseguo a fare la manica e ci vediamo quando ho finito il giacchino è terminato allora se preferite uno scollo più chiuso potete fare anche più giri di mezza maglia alta oppure maglia bassa il tutorial è terminato allora vi ho dato tutte le indicazioni anche per quanto riguarda la circonferenza seno che spesso c'è proprio il problema di realizzare un giacchino quando lo realizziamo in top down proprio per la circonferenza seno allora vi ho dato proprio tutte le indicazioni per poter adattare il nostro giacchino sulla nostra fisicità allora io vi saluto ci vediamo ai prossimi tutorial non dimenticare di iscrivervi al canale baci